Bene, buonasera a tutti e tutte, è davvero un onore essere con Alessio Di Modica, ci hai fatto emozionare, ci hai fatto ricordare, ci hai fatto anche un po' arrabbiare, ovviamente non tu, ma quello che è stato il messaggio, anzi i tanti messaggi di questo spettacolo e io vorrei partire dalla fine, da quella frase bellissima di Dino Frisullo che ci parla di dell'eredità che si lascia, vent'anni è il titolo dello spettacolo, vent'anni sono tanti ma sono anche pochi, qual è l'eredità di Genova 2001 e come possiamo coltivarla? Intanto, sicuramente era l'entusiasmo di quegli anni, perché era forse, credo dagli anni 70 che non c'era un movimento così grande, così forte come è stato in quegli anni, e soprattutto la voglia di dialogare attraverso le diversità, a un certo punto io lo dico questa cosa che ci si incontrava nei tavoli di lavoro non chiedendo tu da dove vieni, ma che pezzo di strada possiamo fare insieme, ed era la cosa più bella di quegli anni, potersi incontrare su un treno a una manifestazione, ma non solo, anche le riunioni dei social forum, persone che venivano da mondi completamente diversi, litigare come pazzi durante le riunioni, però poi decidono un'iniziativa in cui si riusciva ad andare tutti insieme, ognuno con la propria diversità. Io penso che la cosa che è venuta a mancare in questi ultimi anni è proprio questo, queste diversità che dialogano, ed è questa l'eredità che ci ha lasciato Genova, ma che non riusciamo ancora a prendere in pieno. Lo spettacolo si divide diciamo in due grandi parti, la parte del viaggio e la parte della manifestazione, in queste due parti emergono i tanti volti, quelle componenti come dicevi tu che dialogano, che dialogavano, che a volte c'è il passaggio che fai sui social forum, i centri sociali, la rete di Illiput, però è un po' questa l'anima di un movimento, di un movimento di massa probabilmente il più importante, quantomeno degli ultimi decenni, dal punto di vista teatrale. Che senso ha per te, qual è il significato di questi due momenti, il momento del viaggio, quello della manifestazione e questi pezzi di storie, di vita vissuta, perché poi dopo è la tua vita e il tuo ricordo, come si intrecciano agli altri? Ma innanzitutto dal punto di vista personale è dare sfogo alla moltitudine che vive dentro di me, quindi dar sfogo a tutte queste vocine che vivono nella memoria, tutte queste persone incontrate. La differenza è che nella prima parte proprio si vuole descrivere quel movimento, quindi quelle migliaia di persone che insieme si sono incontrate non solo per andare a Genova, ma proprio per animare la lotta politica e culturale di quegli anni. E poi nella seconda parte siamo diventati tutti uguali, le sore erano pericolosi quanto i boy scout, quanto i ragazzi dei centri sociali che provavano simbolicamente a sfondare la zona rossa e c'è stata la mattanza che non ha affatto distinzione tra nessuno. Quindi il motivo anche per cui nella prima parte si vuole raccontare questa diversità e come poi invece agli occhi del potere questa diversità non c'è stata, perché c'era un obiettivo preciso, quello di massacrare il movimento in quel caso, in quel momento fisicamente, dopo Genova anche culturalmente e politicamente. E poi torneremo magari a parlare del dopo Genova. Ci sono alcune cose, sono tante cose in realtà che mi hanno colpito di questo spettacolo e c'è una verso la fine di quando voi, in maniera abbastanza fortunosa, perché un vostro compagno doveva lavorare, scampate di fatto alla mattanza della scuola Diaz. Secondo te che cosa ha segnato nell'immaginario collettivo una cosa del genere? Ci sono stati film, documentari, ma che cosa ha suscitato? Ma secondo me ancora Diaz non è diventato, quello che è successo alla scuola Diaz non è diventato un fenomeno di massa come meriterebbe di essere, perché in realtà bisognerebbe creare e lavorare molto di più sull'immaginario collettivo, perché a volte nel raccontare quel momento si è rischiato di far pensare come se fosse un momento isolato di poche mele marce che hanno voluto far quello. Invece è importante che Diaz dovrebbe essere, quello che è successo alla Diaz, un patrimonio collettivo in termini di memoria. Capite che lì, in quel momento, lo Stato ha fatto una scelta ben precisa e ha agito in un certo modo. In un certo senso potrebbe essere al pari dell'occupazione dell'Eterra nel primo dopoguerra in cui lo Stato si è schierato dalla parte sbagliata. Capita nella storia, non c'è nulla di male, è il momento di dirlo, è il momento. Secondo me Diaz ancora non ha raggiunto quello che è successo alla Diaz, quella potenza comunicativa che deve arrivare di più, senza pensare che sia un caso isolato di un gruppo di poliziotti, ma che è stata una volontà e un volere dall'alto. Tra l'altro nella gestione dell'ordine pubblico di Genova, di cui si è parlato tantissimo in questi anni, però rimane qualcosa di molto amaro, perché ci sono figure importanti che all'epoca ricoprivano ruoli importanti nella polizia, appunto nella gestione della piazza di quei giorni e poi hanno fatto carriera. Questo è veramente un fenomeno molto italiano, anche se poi Genova di fatto ha una dimensione internazionale, questa è una cosa che nel tuo spettacolo emerge, emerge in più punti e allora probabilmente non è solo lo Stato italiano, ma sono davvero quei potenti e la terra che allora come oggi hanno voce in capitolo anche su come poi togliere il diritto costituzionale, come avete detto più volte, a manifestare ai cittadini e alle cittadine. Ma lì è quando poi la finanza e le multinazionali, come sappiamo ormai negli ultimi anni, il capitale, intervengono e hanno più potere degli Stati in un Paese, quindi quello che sta avvenendo in questi ultimi anni è questo, che si è dato troppa forza, troppo potere alle multinazionali in ogni senso che poi riescono a intervenire nello Stato, a imporre un'idea anche di economia che non è più economia ma è finanza, quindi legato alle banche, legato a tutto quello che sappiamo, alle armi, ai traffici, alle guerre e questo è quello che poi porta questi Stati a trattare come se fossero degli Stati che di democratico hanno poco. Nel vostro viaggio verso Genova racconti tante figure e racconti anche tante lotte, voi venite dalla Sicilia, un territorio molte volte ancora oggi martoriato, soprattutto voi venite da Augusta, una terra che ha purtroppo dei trascorsi molto drammatici rispetto all'estrattivismo, rispetto alla foga con cui a volte il capitale si fionda sui territori e emerge uno spaccato genuino però di consapevolezza e anche emerge il fatto che le tante persone che vanno a Genova non solamente vogliono contrastare ovviamente un G8, i potenti della terra ma portano là le loro lotte. Le loro lotte che diventano poi proposte programmatiche perché è importante quello che lo diciamo però è bene specificare questa cosa, andare ancora più dentro, che tutto il controvertice era fatto per elaborare delle proposte concrete su dei temi che siccome poi non sono stati affrontati in tempo sono diventate emergenze, che lo spettacolo cito dalla riduzione della plastica alla sanità pubblica alla gestione dei rifiuti, cosa che oggi sono emergenze, senza parlare dei flussi migratori, delle minoranze, della libertà di stampa, quindi in realtà la cosa importante in quel momento di tutti i controvertici che venivano fatti è che si elaboravano delle proposte concrete da tutti i sud del mondo e quindi potendo venire da una realtà come Augusta che ha delle cose specifiche perché poi quello che è stato fatto dalle multinazionali del petrolio nel nostro contesto non è diverso da quello che viene fatto a Marghera, da quello che è stato fatto a Minamata in Giappone, da quello che viene fatto oggi in Nigeria per esempio, in realtà che le multinazionali arrivano, sdradicano il rapporto con il territorio, con l'appartenenza e con la storia per poter devastare senza avere alcun tipo di disturbo. Da noi lo sappiamo benissimo, il primo impianto fu fatto su una zona archeologica proprio per evitare che in futuro ci potesse essere un altro tipo di sviluppo legato all'interesse storico archeologico. Restiamo sulla nostra viola da aspettare, Piero che torna dopo più di un'ora di fila con i caffè, ci li beviamo e facevamo uno schifo, c'è la macchinetta a fare caffè in quantità industriale, allora dopo un po' patata tira fuori dallo zainetto delle perette piccole verde dette da noi i pirì di San Giovanni e dopo un po' i succhi di frutta nel cartone, tutti di gusti diversi, ci li beviamo, non sapevamo quanto sarebbero stati importanti nel corso della giornata quegli zuccheri che stavamo immettendo nel corpo nel frattempo sul lungomare. Arrivavano da tutte le vie, da tutte le piazze quelli che erano qui dalla settimana precedente. Perché di Genova si parla degli scontri, le manifestazioni, ma c'è una cosa altrettanto importante che non si dice mai, cioè che mentre gli otto paesi più industrializzati del mondo si erano costruiti, questa gabbia dorata, avevano militarizzato una città e lì dentro si arrogavano il diritto di decidere per tutti, al di fuori della zona rossa il controvertice era fatto da esperti militanti, ricercatori, attivisti che venivano da tutte le parti, avevano organizzato per tutta la settimana in diverse piazze, conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde, non per parlarsi addosso, ma per elaborare delle proposte concrete che poi ognuno poteva portare ai propri governi d'appartenenza. E ci si incontravi in questi tavoli di lavoro non chiedendo tu da dove vieni, ma chiedendo che pezzo di strada possiamo fare insieme. Perché la diversità e l'esperienza dell'altro erano ricchezza, i temi erano tanti, che a pensarci uno si confonde. Si parlava dalla riduzione della plastica, alla gestione dei rifiuti, ai flussi migratori, la violenza sulle donne, la sanità pubblica, tanti temi, alla top in tax, la tassa contro le grandi speculazioni finanziarie internazionali, i diritti dei lavoratori, tutti temi importanti che negli anni, non presi in tempo, sarebbero diventati emergenze, sarebbero diventati vitali. E noi, dalla nostra aiuola, guardavamo da un lato la città che si sporgeva, si precipitava ad accoglierli, dall'altra parte l'azzurro intenso abbraccio del mare si tingeva di mille colori perché arrivavano da tutte le vie, da tutte le piazze, ma soprattutto venivano da tutte le parti del mondo. C'erano i semterra brasiliani, i campesinos boliviani, i verdi tedeschi, i minatori inglesi, i disoccupati francesi, i sindacati argentini e ancora in Argentina e nel mondo la crisi non era scoppiata. Un gruppo di studenti palestinesi, i leader mondiali del movimento contro la privatizzazione dell'acqua e contro le dighe, perché in quegli anni le privatizzazioni cominciavano a diventare aggressive direttamente dal ciapas insorto. Gli zapatisti, un gruppo di studenti egiziani che chiedeva libertà nel proprio paese, le madri di Plaza de Mayo, con i loro visi scavati dal dolore, avvolti nei fazzoletti bianchi, azzurri, gli occhi che scintillavano. I greci erano in mille, si tenevano a braccetto, sorridevano, sbattevano i piedi e quando passavano la terra tremava e cantavano tutti insieme. E il pueblo unito, Yamasser Avenzido! E poi i kurdi. I kurdi si riconoscevano perché avevano lo striscione kurdi di Stan Azad, le dita alzate e la magliettina Bio Cialan, loro leader, tutt'ora in carcere in Turchia. E mentre passano le persone battono le mani e gli fanno spazio, perché i kurdi da sempre lottano per la propria sopravvivenza. Il loro paese non è riconosciuto politicamente, suddiviso tra Iran, Iraq, Siria e Turchia e questi mettono da sempre in atta azione di sterminio nei confronti del popolo kurdo. Si parla di migliaia di sparizioni all'anno, villaggi interi bombardati con gas tossici, bambini cresciuti nell'analfabetismo più totale perché vietato a celebrare le loro festività o parlare la propria lingua e queste cose in quegli anni in cui internet non era ancora uno strumento di massa. È importante ricordarlo, comprendere questo passaggio. Le sapevamo grazie al lavoro di un pacifista italiano che abbiamo dimenticato, Dino Frisullo. E siccome l'abbiamo dimenticato, io vi chiedo una cosa. Prima di andare avanti, per favore, ripetiamo tutti insieme il suo nome e cognome, Dino Frisullo. Così non ce lo dimentichiamo più. Dino era definito il livello trasversale un rompipalle, era uno tosto, testardo, tutto d'un pezzo tenace. Nel 1998 va ad Ankara insieme ad altri pacifisti a tutta Europa a celebrare il capodanno kurdo, il Nevroz. Finiti i festeggiamenti, torno in albergo e ognuno manda un fax alla propria associazione di appartenenza. Ancora le mail e i messaggi non erano così in uso. Il mezzo di comunicazione è più veloce del fax su cui c'era scritto. Stanno venendo a prenderci. Subito dopo la polizia turca irrompe nell'albergo e arresta tutti. Dopo qualche giorno però vengono tutti rilasciati, tranne Frisullo, perché viene considerato recitivo, perché in passato ha dato vita ad altre iniziative in difesa del popolo kurdo e per questo rischia tre anni. Lui chiede di essere portato nel braccio dei detenuti politici, ma non glieli fanno vedere i detenuti politici a Frisullo. E allora che fa? Comincia lo sciopro della fame per protestare contro le condizioni delle carceri turche, di cui fino a quel momento, se non per qualche film, non si sapeva nulla. E siccome un italiano è in carcere in Turchia e sta facendo lo sciopro della fame, per la prima volta l'Italia, nella sua storia, si interessa alla questione kurda e coinvolge la Francia, la Spagna, si interessano alla cosa la Germania, la Gran Bretagna e diventa un caso internazionale, troppa attenzione mediatica. Allora le autorità turche che fanno prendono Frisullo prima che venga celebrato il processo e lo rispediscono in Italia. E appena arrivi in Italia, lui chiede di tornare in Turchia. Perché se l'unico modo che c'è che l'Europa si interessi alla questione kurda è che un europeo vada in carcere in Turchia, allora lui vuole andare in Turchia, assistere al suo processo, restare in prigione tutto il tempo che sarà necessario. Questo è Radino. Cerchiamo un punto della manifestazione in cui metterci. Allora io dico mettiamoci Checobas e vanno, no, Checobas a Napoli li hanno presi per prime, passano i ragazzi dai centri sociali, erano loro i pericolosi estremisti. Avevano i caschi per andare in bicicletta sul motorino e armature di gomma piuma. Dicevano che avrebbero sfondato simbolicamente la zona rossa. E dico, andiamo con i centri sociali così se sfondano la zona rossa andiamo a vedere via del campo. E Piero, ma tu oggi andiamo a fare pigliare corpo? Allora un'idea che accontenta tutti. Mettiamoci dietro lo striscione del manifesto. Quello col bambino che dorme così è la scritta, la rivoluzione non russa. Così se ci picchiano, domani siamo tutti sul giornale. Alzano lo striscione, ma siccome è di plastica, l'aria lo gonfia. Allora lo abbassano, lo bucherellano da tutti i lati e qualcuno dice, ti avevo detto che la plastica non è buona. Lo alzano e come lo striscione bello alto, finalmente la manifestazione parte. E appena partiamo vicino a noi una suora scatenata. Perché Dio ama i giovani, perché Gesù era un giovane. E gli scout l'accompagnano con la chitarra dietro di noi. Avanza lente e decisa la CGL di Sabili. Ci sono due vecchietti austriaci o tedeschi, non lo capisco. Hanno una bicicletta a due posti con la scritta questo è il miglior mezzo di locomozione e si fanno spazio suonando la trombetta. E dietro di loro, a decine con le biciclette, chi sono i campanelli, chi la trombetta, sono quelli di Critical Mass che hanno attraversato l'Italia in bicicletta per essere qui a manifestare. C'è uno con una maschera di plastica, con i fiori, l'erbetta disegnata e l'ha scritta, il mondo non è in vendita. Ma siccome si vede la faccia e la maschera è di plastica, lui suda e mentre passa qualcuno dice, ti ho detto che la plastica non è buona. E con lui c'è un altro che ha una maschera a forma di porco che è tutta chiusa però. In mano c'è un pallone su cui ci ha disegnato il mondo e ci gioca. Passo uno striscione con le mutande appese e l'ha scritta, mi gustas le mutandas. Sì, perché per l'allora Presidente del Consiglio, senza nominarlo per favore, fondatore di Mediaset, Fininvest e tutta questa porcheria, abbiamo capito, era indecoroso, era una cattiva figura che facevamo nei confronti dei paesi stranieri, stendere le mutande, i panni e i balconi alle finestre per farle asciugare. E c'era un'ordinanza che vietava di farlo ai genovesi. Cioè, quello era indecoroso, vero? Quella era una cattiva figura. Passo una decina di bambini, fanno un casino, hanno i cartelli, diritto di cittadinanza per tutti, sono i bambini rom, il gonfalone della regione toscana, l'unica regione a essere presente qui alla manifestazione a livello ufficiale, lo striscione del social forum, voi 8, noi 6 miliardi, quelli di rete Lilliput a decine con le mani dipinte di bianco cantavano, quattro potenti si dondolavano. C'è uno striscione dell'ampia, a portarlo sono quattro vecchietti e i partigiani sono tutti vecchietti, ma loro ha liberato l'Italia dei nazifascisti e dopo 50 anni stanno ancora qui a combattere i fascisti, nonostante per tutto questo tempo li abbiano chiamati banditi, traditori ed erano la parte migliore in un paese devastato e accanto a loro. Non ho più paura. In mezzo a tutta questa gente non sono più io, ma qualcosa di più. Quel giorno ed il 21 luglio del 2001 si aspettavano centomila persone, ma ne arrivarono trecentomila. Il mare blu ci guarda, il cielo azzurro ci accompagna, il sole splendente di luglio illumina questa strada che è una promessa, perché mentre camminiamo abbiamo tutti la luce negli occhi e tutti insieme stiamo pensando che questo mondo si può davvero cambiare. Si abbassa l'elicottero e qualcuno urla assassini, assassini, ma io mi sto zitto. Poi l'elicottero si abbassa sempre più in basso e altri urlano assassini, assassini. Io mi sento una cosa qui dentro, ma non mi piace questo, guardo male, anzi chi lo fa? Ma quando l'elicottero si abbassa per la terza volta è così basso che vedo dal portellone il cecchino col fucile puntato sulla folla, non resisto. Anche io mi metto a urlare, assassini, assassini! E patata, oh stiamo calmi, così non va bene, calma. Uno striscione mi fa ridere, c'è scritto, mamma non ti preoccupare, solo tu mi puoi menare. Un ragazzo da un muletto ci urla, svegliatevi, svegliatevi. E poi Luana, sempre sul mio telefono, chiama Ivano e lui, è una festa, è bellissimo, no? Tranquilla. Cioè ci sono persone tutte le parti del mondo, no? Polizia non l'abbiamo visto, stai tranquilla. E invece sulla nostra destra spunto un vicolo in salita con poliziotti schierati in tenuta, anti sommossi, in fila per quattro e mi danno la sensazione che se devono caricare restano bloccati perché il vicolo è stretto. E siccome è in salita io vedo tutti i loro caschi, tutti uguali, non distingue uno dall'altro. E mi ricordo i chiodini con cui giocavo all'asilo quando ero piccolo, solo che quelli erano colorati, questi sono tutti blu. Davanti a loro c'è l'ufficiale che ha una divisa diversa dagli altri, soprattutto ha un manganello diverso dagli altri. E Ivano mi dice quello è il tonfa, è un altro materiale, è un manganello non regolamentare, è vietato, però a Genova oggi ce l'hanno in tanti. Fa più male, dobbiamo stare attenti a quello oggi. C'è un negozio che ha le vetrine spaccate e il negozio è devastato dentro. Le moto vedette si avvicinano il più possibile verso la costa e io dico, e uno che fa? Se noi scappano in Sardegna e si manasconde in Gen argento, c'è uno con la magliettina di Che Guevara, una spranga in mano che parla tranquillamente con dei poliziotti. Un black block con uno scooter 50, indisturbato attraverso la manifestazione in senso inverso. E Piero dice, e sti black block che vengono da tutta Europa? Tu mi vuoi far credere che quello con lo scooter 50 viene dalla Germania, dalla Francia? Il sole picchia forte in testa, c'è caldo, l'elicottero si abbassa sempre di più che diventa snervante. A un certo punto si alza il fumo dei lacrimogeni e Corteo si blocca. E Mano dice, quello è gas CS, è vietato dalle convenzioni di Ginevra, quando l'hanno usato a Quebec City, hanno evacuato la città per un giorno e chiesto alle persone di buttare i vestiti. Qui invece niente. Subito dopo Luana lo chiama e lui, tranquilla, gli scontri sono in un'altra parte della città, non ti preoccupare, noi siamo in un'altra zona, tranquilla. Tiro fuori dallo zaino gli occhialini da mare, che mi ero portato, qualora ce ne fosse stato bisogno per proteggermi dei lacrimogeni. Una ragazza passa con una borsa di limoni, 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 le persone prendono, li tagliano, li passano sulle labbra, sotto gli occhi, patata, tira fuori dallo zainetto una bottiglietta di lemon succo e dice, ma ce la mettiamo tipo con lirio? E noi, ah vai, siamo l'unici siciliani in questo punto del corteo e tu esci il lemon succo? Ah, nascondilo che ci facciamo più figura. Piero, se hai tolto la magliettina e se l'hai messa in testa tipo bandana per ripararsi, perché il sole picchia in testa e fa troppo caldo, deve andare in bagno e dice, è un cesso quello, c'è confusione, ma non è un gabinetto, è un supermercato, un gruppo di black block che hanno spaccato le vetrine, sono entrati e tirano le cose che sono dentro al supermercato sui manifestanti, ci vanno quelli dei gruppi di prossimità, pacifisti, ci parlano e li fanno allontanare. Permesso? Permesso? Un tizio con un carrello della spesa pieno di pietre oltre l'orlo. Permesso? Scusate, permesso? Scusate. Passa e va verso la punta della manifestazione e poi ci dicono, fateli passare, non li guardate, fateli passare. Una decina di ragazzi, tutti vestiti di nero, i primi due, uno suona un tamburo con tempo militare, l'altro porta una bandiera nera con una scritta rossa, fanno una specie di parata militare e se ne vanno. Il sole picchia forte in testa, c'è caldo che non si respira, l'elicottero si abbassa sempre di più che ti levi il fiato, il fumo di lacrimogene, si fa più denso. Quelli del manifesto ricevono una telefonata, avvolgono lo striscione e se ne vanno. Noi ci guardiamo in faccia, non sappiamo che fare. Una ragazza arriva correndo e ci dice, sedetevi a terra con le mani alzate, sedetevi a terra con le mani alzate. In migliaia ci sediamo a terra con le mani alzate, ma la polizia picchia tutti indistintamente, anche quelli a terra con le mani alzate. Allora ci alziamo, corriamo, giriamo per una via. Di fronte a noi un gruppo di poliziotti schierati a testuggine, battono i manganelli sugli scudi, avanzano verso D. Noi giriamo, torniamo sul lungomare, arriviamo in un punto. La polizia prende i manifestanti, li schiaccia sul muro a terra, rannicchiato, qualcuno piange. Una ragazza, mani sul muro, urla, sono pacifista! Un poliziotto le dà un colpo di manganello sul costato. Un black block con una mazza in mano, passa, indisturbato, sorride, guarda la scena e se ne va. Qualcuno scende verso il mare, noi restiamo sulla strada, dalle motovedette scendono altri poliziotti, circondano quelli che sono scesi verso il mare. Lì circondano su un terrazzino, come top in trappola, gli sparano addosso i lacrimogeni. Si affoglia un ragazzo da un terrazzino, come un prende una crisi d'asma, svende la sola che prima cantava a due lati, la sorregono. Noi corriamo seduto al bordo di un marciapiede, c'è uno con la testa tra le mani che sanguina e guarda per terra la macchina fotografica distrutta e il tesserino è un giornalista e non si capisce se è più disperato per la macchina fotografica distrutta, i sacrifici di una vita o per il sangue tanto che gli cola sul viso. Corriamo, arriviamo in una piazza, giriamoci su un bidone della spazzatura, quello del treno della federazione di Tivoli che grida non disperdete il corteo, dovevamo stare tutti assieme, non disperdete il corteo. In quel momento ci accorgiamo di aver perso Piero. Allora io e patata ci fermiamo dietro una campana della raccolta differenziata. Imano corre indietro a cercare Piero. Piero si era perso in un momento di confusione, si è trovato tra gli scontri e la fuga, tra gli scontri e la fuga. E ci ha pensato. Ora vengo te che a fudo perché non c'è filo che io non è che può fare. Ha così. Ho fai in gula, a 108 anni mi ha metto da presto a biauce. Ed è scappato. Mentre corre dal cellulare, dalla rubrica, prende il numero di Ivano. Ivano! Ivano! Poi si ricorda che il telefono di Ivano ce l'aveva la moglie a casa. Allora chiude, corre, riesce a incontrare Ivano. Vengono verso di me patata correndo. Mentre stanno arrivando, io vedo due, tutti vestiti di nero, che si vedevano soltanto agli occhi. si guardano e uno ci dice all'altro, anche tu qua, si abbracciano e scappono insieme. Io e Ivano, Piero e Patata corriamo intorno a noi, colpi di manganello così vicino. Sembra di sentirli addosso. C'è uno che urla, sono avvocato, sono avvocato. Un poliziotto per il colletto lo butta a terra, colpi di manganello sulle gambe. Una signora apre la porta e dice ragazzi, nascondetevi qui dentro. Siamo in tanti, noi riusciamo ad entrare. Posso dietro una campana della raccolta differenziata, capovolta, pesto, vetro. Un poliziotto ci ha puntati da lontano, c'è il manganello in alto. Non possiamo né fermare né tornarsi indietro perché di sicuro ci insegue. Ma ogni istante prima che arriviamo dal poliziotto si fermano da lui, quel ragazzo e quella ragazza che sul treno si baciavano e gli chiedono, scusate, noi non c'entriamo niente qui in mezzo, era per fare un viaggio insieme, per stare tranquilli. Dove possiamo andare? E il poliziotto gli risponde, affanculo! Gli do un colpo di manganello sul costato al ragazzo, il ragazzo si piega, la ragazza urla e il poliziotto con un calcio butta il ragazzo a terra. Noi corriamo, uno mi investe e mi chiede, ma da cosa stiamo scappando? Io non so che rispondere, gli dico, dagli anarchici! E lui, ma io sono anarchico! Su un aiolo c'è uno con la pettorina bianca, la croce rossa e un mellico, con le braccia si parla la faccia perché tre poliziotti gli danno colpi di manganello sulle braccia, sulla schiena sulle gambe, un ragazzo a sangue sulle mani, sulla magliettina piange, urla forte il nome di una ragazza! Oggi qui non basta essere pacifisti, medici, giornalisti e alzare le mani! Oggi qui bisogna correre e scappare! C'è una narrazione che è passata molte volte rispetto al movimento di Genova, è quella di un movimento sconfitto, o comunque della fine dei movimenti. Però è vero anche che negli ultimi 20 anni ci sono state tante cose rispetto ad esempio al tema ambientale, basta pensare ai movimenti climatici di massa, Fridays for Future, ma non solo che ci sono stati, o tutte le lotte sulla questione femminile e femminista. Genova è stata una rottura perché ha parlato un linguaggio nuovo, è riuscito a portare per la prima volta probabilmente in piazza i temi dell'ambientalismo, dell'antirazzismo, li ha politicizzati. Quindi da questo punto di vista è stato uno spartiacque, probabilmente non l'era dei controvertici è finita, ma i movimenti no. Che cosa ne pensi? Io non ci credo nella sconfitta, proprio per quello che stavi dicendo, perché poi tante persone si sono inabbissate nei propri territori e sono riuscite a cambiare i linguaggi e a costringere i territori, a rapportarsi con certe cose. Ricordiamoci che anche dopo quel momento nacquero le esperienze delle banche etiche, quindi in realtà qualcosa viene fatto e è cambiato il rapporto nel caso specifico con l'idea di inquinamento e di sfruttamento del territorio. Da noi per esempio prima era quasi tabù parlarne perché c'era il ricatto occupazionale, no che oggi sia cambiata questa cosa, però è anche vero che si riesce anche a dire molto più facilmente che hanno portato a morte le multinazionali del petrolio. Tant'è che loro son forti, son furbe e oggi fanno il greenwashing e il cultural washing agendo in maniera scientifica come hanno agito 50 anni fa. Però dall'altra parte quel movimento ha lasciato in eredità questo che non è più tabù e si parla di più di queste cose rispetto a prima. Anche del Kurdistan per esempio non se ne parlava prima, oggi se ne parla molto di più. Un'ultima domanda, parliamo adesso di teatro. Tu, anzi voi, perché c'è anche Ivano ovviamente dentro questo progetto, hai avuto il coraggio di portare sui palcoscenici, palcoscenici di movimento, tutto, ma non solo immagino. I vent'anni di Genova, parlando di una cosa che comunque rimane scomoda, rimane una storia contesa. Allora mi viene in mente una domanda che può essere forse banale sul ruolo culturale e politico del teatro, però vorrei insistere su questa cosa. Quanto è importante per te che la cultura, che chi fa cultura in questo momento, oltre ovviamente a rivendicare, ricordiamo che viviamo in una pandemia in cui il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo è stato molto molto colpito, però quanto è importante politicizzare la cultura? È molto importante, però bisogna politicizzarla in maniera molto profonda, perché in realtà la crisi economica che vive il teatro non è altro che specchio di una crisi culturale che vive da più di vent'anni, perché il teatro ha smesso di parlare con le persone e quindi se si prendono certi temi, spesso non avviene perché i temi si vivono, si sentono, ma per convenienza o perché c'è un bando al ministero. Quindi se il teatro non ha il rapporto con le persone, perde la cosa fondamentale per cui è nato il teatro, comunicare con la gente. Se il teatro non ha questo, non ha ragione di essere teatro. E invece in realtà il problema oggi di un certo tipo di teatro è proprio questo, che hanno creato delle zone rosse culturali al di fuori del quale non ci si può muovere. Quindi poter trattare questo tema non perché c'è il ventennale, ma perché deve essere soltanto una tappa questa, ma anche per ricordare chi vent'anni fa stava dall'altra parte della barricata, perché purtroppo ci si dimentica facilmente in questo paese e magari in questi giorni o il 20 e il 21 saranno a fare la passarella a Genova. Quindi un teatro fatto di memoria e di immaginario collettivo è fondamentale. Nel caso specifico di Genova, a causa dell'attacco massmediatico che ha subito il movimento, non si è creato un immaginario collettivo rispetto a quello che era il movimento di Genova. E quindi io, da artista teatrante e soprattutto da puntista, che è una tecnica di narrazione tradizionale che si basa sull'immaginario collettivo, sento l'importanza di raccontare e di creare quell'immaginario collettivo che non è mai stato fatto su Genova. Quindi non come un tema, ma come qualcosa che possa aprire dei processi e creare comunità. Grazie davvero Alessio, grazie per queste belle parole, grazie per le emozioni che ci hai regalato stasera e che regalerà in questa tournée. Ultimissima domanda, voi farete la tournée ovviamente dei 20 anni, che altro ci riserverai? Domani siamo a Trento, vuoi sapere le date oppure i progetti futuri? Anche qualcosa che puoi spoilerarci rispetto al post-estate. Magari tornerai a Padova. Magari sì. No, intanto proseguiamo il partigianale dell'E-Memoria Tour. Volevamo partire con questo tour nel giugno del 2020, poi a causa della pandemia non è stato possibile. Nei prossimi giorni saremo Trento, provincia di Trento, Brentonico, Arco, poi scendiamo giù a Pescara, a Cava dei Tirreni, a Bari, risaliamo di nuovo a Bergamo. Ci auguriamo che, ripeto, il ventennale noi stiamo lavorando perché questo spettacolo passi dal ventennale come una tappa perché lo vorremmo portare in giro nei prossimi 20-30 anni e raccontare chi sta lavorando dal basso e chi ha lavorato dal basso, soprattutto in questi 20 anni, di cui non viene detto mai abbastanza. Infatti insieme alle tappe che noi stiamo raccontando stiamo anche ascoltando le esperienze che ci hanno chiamato e ci stanno ospitando perché questo tour è stato tutto voluto insieme a Ivano e studiato proprio dal basso. Davvero era l'ultima domanda. Grazie, grazie Ivano. Speriamo davvero di riavervi qua a Padova, qua in Veneto, qua a Sherwood, magari la prossima volta non per una ricorrenza ma per qualcos'altro. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. E buona continuazione di tournée. Grazie. Grazie.